Quarta e ultima parte della spiegazione delle scene della modalità storia di Marvel contro Capcom Infinity. Io sono Gabri Costa, ragazzi. Voglio descrivervi Satsui Noado, che lo sta usando Thanos, ma dovete capire come. Dopo essere stato testimone dell'incredibile potere che il Satsui Noado racchiude, Thanos decide di prenderne possesso usando il dispositivo di assorbimento. Riesce a ottenerlo e guadagna così una nuova fonte di potere che nessuno dei suoi nemici ha mai incontrato fino ad ora. Anche se questo video di questa quarta e ultima parte è durato poco, possiamo salutarci subito. Vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, immediatamente. Perché io gli iscritti li voglio a dismisura. Ora dovete ringraziare Gabriosta che vi ha descritto tutte le scene della modalità storia di Marvel contro Capcom Infinity. E poi ricordatevele per sempre, che vi rimarrà nei vostri cuori, nei vostri ricordi. Grazie. Grazie. Grazie.